E adesso dall'altra parte del muro chi ci sarà? Allora, qui c'è Gabriele. Come lo immagini questo Gabriele? Ehm, alto. Sì? Cosa c'è da ridere? Ma fatevi gli affari vostri, ma guarda. Oh, ma loro devono ridere. Gabriele, non li ascoltare. Allora, alto poi? E' molto magro. E' molto magro. Adesso, cioè, da come avete riso voi, sembra che sia piccola una palla di largo.